Siamo qui con Barretta Francesco De Sampio, insomma oggi una prestazione gagliarda, arrivato un punto meritato che dà tanto morale. Direi proprio di sì, dopo una serie di sconfitte consecutive finalmente siamo riusciti perlomeno a fare un punto. Io penso che tutto l'anno che noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo contati, ma stiamo giocando sempre al massimo e spero che nelle prossime partite verrà fuori davvero i risultati che meritiamo perché ce la stiamo davvero mettendo tutta e sono contento oggi ad aver fatto un punto con i primi in casa. Quanto è difficile giocare con sette contati? È molto difficile anche perché siamo sempre i soliti sette, quindi comunque abbiamo sempre, ci intendiamo molto bene, però siamo sempre noi, abbiamo qualche ruolo che si sovrappone, qualche volta ci adattiamo. Quest'anno siamo stati anche in nove o in dieci, ma mai di più, quindi alla fin dei conti è un campionato lungo, noi veniamo dall'Open B dove c'erano meno partite e il campionato è veramente difficile, ma sono sicuro che ci salveremo. 31 gol fatti, 35 subiti, ti chiedo qual è la statistica da migliorare per salvarsi? Sicuramente prenderne qualcuno in meno perché comunque abbiamo 35 gol, non sono moltissimi, però abbiamo preso troppi gol inutili, troppi gol stupidi e quindi riusciamo a farne, ma secondo me l'importante è cercare di prenderne qualcuno in meno. Settimana prossima con la Robur, altra tappa salvezza? Altra tappa salvezza fondamentale, dobbiamo riscattare la partita dell'andata, giocata in casa e che purtroppo abbiamo perso per una partita dove veramente è andato tutto male. Per colpa nostra anche. Perfetto, ti ringrazio, sono gentilissimo. Grazie a voi e buona domenica. Grazie a voi.